Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, la grazia del Signore che da sempre riempie la vostra vita oggi e sempre, perché il nostro cibo è colui che è disceso dal cielo, Gesù figlio di Dio, fatto uomo. Dio Padre ha dato all'uomo questo cibo, mangiare, mangiare la vita di Gesù, nutrirci dell'insegnamento di Gesù, accogliere lo spirito di Gesù, essere innestati nella vita di Gesù, essere in Cristo una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, così anch'essi in me siano una cosa sola, affinché il mondo creda, una cosa sola con Dio, una cosa sola con Gesù Cristo e quindi lui e questo pane è disceso dal cielo, per cui chi ne mangia non avrà più fame, chi ne mangia ha la vita eterna, chi si alimenta di Gesù Cristo, si unisce a Gesù Cristo, si nutre di Gesù Cristo, diventa una cosa sola con lui. Questa è la volontà del Padre, fratelli, che noi ci alimentiamo di Cristo Gesù. I giudei che avevano mangiato il pane moltiplicato di Gesù, l'avevano cercato per farlo re e Gesù era sfuggito da loro, ma poi incontrandosi nella sinagogia di Cafarna e questi li chiesero come sei venuto qui e Gesù, l'abbiamo visto ieri, rispose loro voi mi cercate non perché avete visto un segno dal cielo, cioè mi riconoscete il mandato di Dio, ma perché avete mangiato. E perciò dice loro, in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli disse lo Signore dà ci sempre questo pane. Ma quale pane pensavano queste persone? A quelle che avevano mangiato il giorno prima, un pane moltiplicato, sicuramente saporito, un pane nutriente, ma che non nutriva l'anima. Infatti vediamo nella prima lettura di oggi il martirio di Santo Stefano. Stefano era uomo pieno di Spirito Santo, compieva prodigi, tanti erano tirati alla fede per mezzo di lui, ma viene preso, accusato ingiustamente. Ci chiediamo, ma di quale pane si nutrivano queste persone per odiare a morte Stefano e chiunque tra i cristiani faceva del bene? bene, ma era un pane di vita o un pane di morte. Quando nel cuore dell'uomo sorge il desiderio di uccidere l'altro uomo, quello non viene da Dio, Dio viene. Invece l'altra realtà, quando un uomo fa dono della sua vita, come tante stanno facendo in questo periodo, fratelli che si stanno dedicando alle persone contagiate in difficoltà. E ne ho conosciuti diversi, con molta serietà, con molta convinzione e anche con molta coscienza, sapendo che potrebbero contagiarsi facendo quel servizio. Quanti medici sono morti? Dei medici in pensione sono rientrati per poter essere d'aiuto e diversi di loro hanno sacrificato la loro vita. Questo è il pane vivo disceso dal cielo. Quello vero che dà la vita all'uomo è il pane che ti porta ad adorare Dio come figlio, a lasciarti amare da Lui, lasciarti rigenerare da Lui e ti porta necessariamente a fare dono della tua vita. Dice Gesù nel Vangelo, ogni pianta si riconosce dai frutti che porta. Se la pianta porta odio, così abbiamo visto anche in Europa, fratelli, quando c'è stata la riforma, sono state scatenate diverse guerre di religioni, ma di che pane si nutrivano? Teologicamente sembrava che le loro dottrine fossero molto profonde, ma se il frutto era la violenza, la guerra, era il disprezzo dell'altro. Se vede come si è sviluppato anche in mezzo ai cristiani della nostra epoca degli odi, adesso c'è entrata una tolleranza reciproca, un rispetto. Papa è entrato nella chiesa luterana di Roma, Papa Giovanni Paolo II voleva fare questo passo, Papa Francesco è andato addirittura a un convegno dei luterani quando hanno celebrato il 500 anni della loro fondazione. Sì, qualcosa si vede, questo cammino verso l'economismo, ma che non è ancora una conversione profonda di cuore, di accoglienza dell'altro, anzi il disprezzo dell'altro. Ricordo una volta, durante un incontro di preghiera, c'era la sorella alta che pregava per gli ammalati e c'era un ragazzo che proveniva dal mondo pentecostale e lui aveva dei dubbi perché i suoi gli avevano detto che non ci poteva essere la grazia di Dio nel mondo cattolico. E lui che aveva sofferto di mal di testa disse, Signore ma sei tu che operi qui, dammi un segno. Quel mal di testa scomparve immediatamente e venne a testimoniare questo fatto, ma perché come anche noi cattolici dubitiamo di ciò che avviene nel mondo evangelico, dai frutti riconoscerete la pianta, dai frutti. Ecco il pane vivo scende dal cielo, porta la pace, porta la comprensione, porta il rispetto. Il pane vivo ci fa rinascere vita nuova secondo lo spirito di Gesù Cristo. Non basta alimentare lo stomaco con cibi raffinati, occorre alimentare il cuore, così nell'educazione dei bambini. È una buona cosa insegnare loro nella vita, ricercare una buona professione, ma una volta tenendo un ritiro per una scolaresca che voleva fare il progetto, erano tutte dell'ultimo anno delle scuole superiori, che sia i ragazzi. Ragazzi alzi la mano in mezzo a voi, chi di voi ha scelto la scuola che avete frequentato perché vi aiutasse ad aprire la vostra vita al bene del prossimo? Nessuno alzi la mano. Tutti avevano scelto quella scuola per poter riuscire nella vita, avere una professione, uno stipendio, una cosa buona, ma manca l'elemento dello spirito, il nutrimento dello spirito. Ecco allora, il bisogno che ci abbiamo noi oggi, fratelli, di alimentarci di Gesù, mangiare di Cristo Gesù. Tanti vanno a fare la comunione, ottima cosa, fratelli. Però il sacramento dell'eucaristia richiede che cosa? La fede. San Paolo dice, sono mangi di questo pane e beva questo calice, senza discernere il corpo e il sangue di Cristo. Mangia e beva la propria condanna. Non ci si accosta alla comunione per fare un rito, ma per accogliere quel Gesù che ha detto, ama il tuo fratello, per accogliere quel Gesù che ti porta l'amore anche verso il nemico, quel Gesù che ti porta a vivere con uno spirito di innocenza, che combatta la malizia, la corruzione dei sentimenti, degli affetti e delle passioni che possono essere dentro di te. Questi affetti oltre disordinati. Gesù non ha proibito, ha chiesto di lasciarsi penetrare da quello spirito che ti porta a stabilire relazioni di affetto, ma nel dono d'amore, nell'accoglienza gioiosa e santa dell'amore, non della volgarità, non della prostituzione, della corruzione. Mangiamo questo pane, mangiamo questo pane. Ma voi vedete, fratelli, come gli elementi di corruzione si sono diffusi. Ecco Gesù oggi ci chiamano a mangiare questo pane, il pane vivo che è discente dal cielo e questo pane ti proietta verso l'eternità, non verso la morte. Perché sta succedendo quel che succede? Perché tanti hanno mangiato il pane della morte, non il pane di Gesù. Perché il pane di Gesù porta l'umanità a cercare la salvezza delle più debili, della gretola prima ancora che nasca a soccorrere chi ha un'immagine di sussistenza, il pane dell'amore, il pane della vita, il pane dell'eternità, il pane della pace. Ecco Gesù è questo pane. Perciò grida nel Vangelo di Giovanni, chi ha sete venga a me, beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorcheranno dal suo seno. Ecco, fratelli, Gesù, colui che è la vita. Io sono la via, la verità, la vita. E allora accogliamo il suo invito, sediamoci alla sua menza. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora dobbiamo mangiare il suo sacrificio. Bisogna mangiare che lui che ci ha amato fino alla morte, la morte di croce, questo amor di vendere dentro la tua vita. Hai peccato, ma Gesù ti dà la misericordia. Ti sei smarrito, ma Gesù è la via che ti riconduce al Padre. Signore Gesù, grazie, tu sei venuto in mezzo a noi a portarci la tua vita, a portarci la tua salvezza. Sei tu la nostra salvezza. Dacci sempre questo pane. Apri i nostri occhi, fa che ti riconosciamo, fa che ti vediamo presente in mezzo a noi, ma che anche nelle prove che stiamo attraversando vediamo il segno della tua bontà immensa, che sta richiamando l'umanità a conversione, a liberazione degli elementi di questo mondo, dal potere di Satana. Dacci sempre questo pane. Vergine Santissima, questo pane viene dal tuo cuore di Maderno. Tu hai accolto i figli di Dio nel tuo cuore, come ci insegna Sant'Agostino, prima ancora di concepirlo nel tuo grembo, e l'hai donato a noi. E la presentazione di Gesù al Tempio, il vecchio Simeone, ti disse, anche a te una spada ti trafiggerà l'anima. E tu l'hai accolto quel figlio, e l'hai donato a noi, sapendo che sarebbe stato per te una lancia che ti avrebbe trapassato l'anima, ma tu l'hai voluto perché ci hai amato. Insieme al figlio tuo, Gesù Cristo, hai dato la vita per noi. E oggi guida la tua Chiesa, che è provata, la tua Chiesa che è perseguitata in tanti modi in questo mondo, e conduce la tua Chiesa a nutrirsi sempre più di Gesù, pane vivo disceso dal cielo, per nutrire l'umanità. E la Chiesa è stata munita da Gesù, che ha detto, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il discepolo non è da più del Maestro. Donneci questo coraggio e sapere affrontare anche le difficoltà, per dare gloria a Gesù, Signore e Salvatore nostro, per fare di Lui il nostro Salvatore, la roccia che ci salva, lo scudo di ripare, il pane che ci alimenta per la vita eterna, a Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E che questo pane oggi, fratelli, Gesù, riempie la vostra vita, vi sanzi. E quando mangiate questo pane sappiate che le paure fuggono, il coraggio prende la vita, la potenza vi avvolge e lo Spirito di Dio vi riempie. Amen.